Anche oggi siamo qui pronti per rispondere a delle domande, a dei quesiti che voi ci ponete e proprio in questi giorni sono molte le domande riguardo ai gonfiore alle gambe in generale. Molte persone accusano questi fenomeni e allora parliamo un po', facciamo un po' il punto della situazione. Perché le gambe dovrebbero gonfiarsi? Perché forse c'è un'insufficienza venosa, un'insufficienza venosa cronica a cui prima non avevamo dato molta attenzione, però i sintomi c'erano, il formicolio, gonfiore, serotino, quindi la mattina le gambe sono più sgonfie, la sera le troviamo gonfie, poi il riposo a letto ci consente di ritrovare in parte la buona forma e poi i formicolii, i crampi alle gambe e chiaramente ci può essere anche il prurito. Ma perché questo si verifica di più in questi giorni? Si verifica in questi giorni perché probabilmente siamo stati più fermi. Il fatto che non siamo riusciti ad uscire a fare una buona attività fisica ha risvegliato in noi quella che era già un'insufficienza venosa di cui non c'eravamo accorti o che si rendeva manifesta soprattutto durante i periodi estivi, quando fa molto caldo. Che cosa è dovuta a un'insufficienza venosa? È dovuta praticamente a una cattiva funzione delle vene, in genere vene delle gambe e quindi si presenta come delle varici, delle teleangiectasie, in quanto il ritorno del sangue verso il cuore è difficoltato da un'incontinenza del circolo venoso, quindi di queste vene che percorrono tutto il nostro organismo, perché voi sapete, ne abbiamo parlato già in precedenza, abbiamo le arterie, poi abbiamo le vene, le quali ritornano verso il cuore e quindi scaricano tutto quello che di cattivo hanno raccolto durante il loro circolare con il sangue attraverso il nostro corpo. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riattivare la circolazione, quindi ci sono delle piccole cose che possiamo fare anche a casa, anche sul divano, sollevare le gambe tenendo la testa più bassa delle gambe, apporre due cuscini sotto le gambe e fare in modo che il sangue ritorni verso il cuore. Questa è una cosa molto molto semplice, certamente la cosa migliore sarebbe venire presso i nostri studi a fare un Doppler, c'è quell'esame che ci dice se noi abbiamo un'insufficienza venosa, di che grado è la nostra insufficienza venosa e quindi prescrivere una terapia. Quello che io vi consiglio è se potete di fare questo Doppler in modo da stabilire con noi, con il medico, di che cosa avete bisogno e soprattutto quali sono gli ausili di cui avrete bisogno. Per il momento cercate di riattivare la circolazione, soprattutto attivando i nostri muscoli delle gambe, perché la circolazione viene spinta verso l'alto dalla funzione e della capacità che hanno i nostri muscoli. E come si fa? Noi possiamo fare dei piccoli esercizi di stretching per mantenere i muscoli efficienti, fare dei piccoli passi come se noi facessimo la marcia, quindi punta e tacco, punta e tacco, questo attiva la pompa venosa che è al centro del piede e quindi delle piccole cose. Poi durante la giornata non staremo sempre seduti, ma preferiremo sollevare le gambe con la testa più bassa. Questo già ci consentirà di non creare un accumulo importante per quanto riguarda il sovraccarico venoso. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima piccola pilola di salute in modo che potremo mantenerci meglio anche in questa giornata. A presto, al nostro prossimo incontro!